La bandica è nata nel 2000 e ben in tre anni ha vinto due concorsi in campo nazionale e siamo ancora in tempo per vincere un terzo, fatto sta che nel mese di aprile del 2003 siamo arrivati i quarti a Riva Delgarda ad un concorso internazionale. Detto questo della banda erica, il prossimo brano che vi proporremo è un brano famosissimo What a Wonderful World del maestro Louis Armstrong adattato per la banda dal maestro Cuscetto. Per l'occasione abbiamo chiesto l'aiuto dal grande maestro Tarcisio Cialardini che sarà il solista in questo brano famosissimo. Signore e signori, sotto la direzione del maestro Luca Cecconi, ecco a voi What a Wonderful World. Dirige il maestro Luca Cecconi, solista il maestro Carcisio Cialardini. Applausi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.